ok ragazzi non so cosa è successo ho riaviato minecraft e questo era lo stato delle cose non c'è più il coso figo il energy collector ho ancora le mie cose per fortuna però tutte le cose che delle mod sono scomparse qui scomparse l'automated cosa scomparso tutto il pavimento non c'è più perché c'è parte di una mod ci sono ancora le cose dell'industrial craft cos'altro ci sono le volpi qui nemo critus c'è ragazzi non so che dirvi la serie purtroppo mi dispiace anche a me cosa vi devo dire anche questa serie finisce qui ho imparato dai miei errori non farò più serie su versioni non definitive quindi aspetterò che uscirà la 1.25 della tecnica e allora inizierò a fare la serie nel frattempo che vi devo dire consigliatemi qualcosa da fare una serie bella se volete che continuo minecraftite magari qualche costruzione che mi volete consigliare tutte queste cose scrivetemi nei commenti qui sotto perché la serie finisce qui se volete lasciare un supporto lasciate mi piace condividete il video magari qualcuno dei vostri amici che non mi conosceva qualche idea carina per la prossima la prossima serie ciao a tutti grazie 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 grazie